Il dialogo è andato molto bene, abbiamo messo l'accento sul caso Trivellopoli, quindi questo caso grave di corruzione che riguarda anche alcuni membri del governo. Ha condiviso con noi che adesso uno dei problemi principali del nostro paese è la corruzione e bisogna combattere immediatamente, questa è una priorità, visto anche quello che è successo recentemente appunto sul caso delle inchieste in Basilicata. Ha condiviso con noi che adesso dobbiamo anche puntare alle alternative energetiche e ha considerato molto utile il fatto che domani noi presenteremo ufficialmente un piano energetico per il paese. Il dialogo è andato molto bene, abbiamo messo l'accento sul caso Trivellopoli, quindi questo caso grave di corruzione che riguarda anche alcuni membri del governo. Ha condiviso con noi che adesso uno dei problemi principali del nostro paese è la corruzione e bisogna combattere immediatamente, questa è una priorità, visto anche quello che è successo recentemente appunto sul caso delle inchieste in Basilicata. Ha condiviso con noi che adesso dobbiamo anche puntare alle alternative energetiche e ha considerato molto utile il fatto che domani noi presenteremo ufficialmente un piano energetico per il paese. Grazie.